Rieccoci insieme con il bianco e rosso di B Sport e con il nostro ospite Carmine Volpezzi, rappresentante della squadra di rugby di Bari. Tra poco riapriamo le telefonate, però prima vorrei farvi vedere questa conferenza stampa che Gile ha tenuto a Bologna. I tifosi del Bari sono un po' risentiti per quello che ha detto Gile, però poi commentiamo insieme. Qua a Bologna veramente tutti tifano Bologna, è una cosa bella, la gente segue le sorte della squadra, ci tiene. Ho ritrovato una cosa molto bella, anche l'altra volta quando siamo tornati a Milano faceva un freddo incredibile, tutti fuori. Sono cose belle, insomma, sto vivendo, sono venuto qua giustamente, il primo anno qua, è una bella realtà, mi piace tanto. Un po' mi sto accorgendo che sono arrivato qua e è bello, mi piace perché comunque arrivi, la società è perfetta, è tutto organizzato, centro d'arriamento, arrivi in una piazza importante, comunque è una storia importante, è vero, magari fosse venuto a Bologna un po' prima, però a me va bene così, è solo l'inizio e spero di fare ancora tanti anni, va bene così. Questo Gile, bandiera del Bari, peraltro, dice queste cose, il tuo punto di vista qual è? Questo mi fa stare ancora più male, perché mi fa immaginare quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Gile, bandiera del Bari, grandi giocatori che sono passati da Bari e sono andati via, grandi dirigenti, Perinetti, Conte e Gile che con questa dichiarazione non mi è piaciuto, mi ha fatto male, che ha detto che potevo venire prima a Bologna. Vabbè, è una conferenza stampa a Bologna, tutte le emittenti televisivi bolognesi sicuramente, anche per piageria, anche per rendere grazie a tutti quei tifosi che adesso lo stanno sannando, perché Gile sta sfoderando delle prestazioni, una più bella dell'altra. E queste cose che ha detto, Enzo, lasciano veramente con l'amaro. Io apprezzo molto la purezza e la genuinità, l'onestà di Gile. Gile ha detto una cosa che deve far male, soprattutto deve, come dire, ferire la società del Bari, perché ha detto, ha fatto un distingo fra una società perfetta, ha detto, ha visto cosa ha detto? Una società perfetta. E gli dispiace che non l'abbia fatto a Bari. E' proprio a nudo tutte le pecche, tutte le pecche di questa società, di tutti questi anni di mala gestione e di tutti questi anni di sofferenza del tifoso barese che ha patito. C'è un amico in linea, pronto? Proprio il caso di dire che schifo. Evidentemente si è imbastardito anche lui. Comunque, Enzo, io lascerei perdere. Mi volevo invece soffermare sulla partita di ieri sera. Che bello vedere il Napoli giocare su quel campo. Lo commentavamo proprio prima, telecamere spenti. Nutro un sano senso di invidia nei confronti del... Noi saremmo stati più di 3.000 però, eh? Sì, nutro un sano senso di invidia nei confronti dei tifosi napoletani per quello che cotevamo essere noi che non siamo stati e pensare che noi gli uomini per diventare così li abbiamo avuti. E certo. Sembra quasi che abbia sentito le tue parole in servizio. No, non dimenticherei che... No, condividiamo quello che stai dicendo. Conte pensava di sostituire Gillette proprio con De Santis. Non dimentichiamo che Perimetti è stato un momento che pensava di sostituire Conte con Maggiarri. Quindi gli uomini per diventare grandi e ambiziosi li abbiamo avuti. Le idee almeno, dai, c'erano. Perimetti lo ha detto quando ne ha dato via. C'è qualcuno che qua a Bari aveva paura di volare. Cioè, questa è una frase emblematica e dovremmo ricordarci per tutta la vita calcistica qui a Bari. E noi siamo rimasti piccoli e chirchi. E' perché il Presidente, il discorso che ha fatto il Presidente ieri... Arrivederci. ...i a Bordocao. Salve l'ercizio dell'Aurentisi. Cioè, è stato veramente quasi... Cioè, ad averne i Presidenti così. Ma io me lo ricordo quando ho preso il Napoli. Lui con la sciarpa del Napoli in campo, come un... ad acclamare proprio il popolo napoletano ad andare allo stadio. Era sui cartelloni pubblicitari, era sui cartelloni sui pullman, proprio per... A noi ci vorrebbe un Presidente così, diciamo. Ci vorrebbe proprio. Ci vorrebbe una fortuna del genere. Che ti fa andare allo stadio, ti fa venire voglia proprio di attaccarti ancora di più a questa squadra. 080-501-9998. Ecco, vorrei dire, ora è facile di aver visto queste immagini di Gillet dare addosso a Gillet. Io invece, dietro le parole di Gillet, vedo altro. Cioè, vedo come Gillet... E' come quando probabilmente si è sentito innamorato di una squadra, diciamo di una donna, non conoscendone un'altra praticamente. Quando ha conosciuto l'altra ha capito cosa si era perso. Cosa si era perso. Perché Gillet non ha amato altro che... Sì, ma poca roba. Cioè, appunto. Quindi solo il Bari. Evidentemente è questo lo spirito. Anche se Gillet è un giocatore particolare, perché Gillet è il record man di presenze con la maglia del Bari. Ecco, l'unica cosa a quale vorrei fare un appunto, ma affettuoso a Gillet, che ha dimostrato anche nella vicenda del calcio scommesso di essere una persona pulita. Inavvicinabile. Lo hanno definito già inavvicinabile. Lo zingaro, non so come si chiama, Ilievski, dice che addirittura lo chiamavano il presidente. Inavvicinabile, inattaccabile. E addirittura da evitare il contatto con lui. E questo gli fa assolutamente onore. Gillet parla dei tifosi del Bologna, c'è chi vivono per il Bologna. Diamine. Lui dovrebbe essere abituato ai tifosi del Bari. Insomma, se Bologna e Vembina, non credo che facciano di meglio di quanto lo stanno facendo con quelli del Bari. Chiaro che Bologna è in Serie A, ma quelli del Bari avrebbero, come dire, vivono forse non ogni giorno, ogni minuto della loro vita con il Bari in testa. Quindi non mi sembra, questa è una grande notizia, che a Bologna parlino sempre di calcio. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Pino Pinto e saluto il collega Carmine. Ciao, ciao. Carmine, vuoi venire con noi sabato a Dempoli? È da Parma Bari che non vieni più con me in trasferta, dai. Purtroppo, come dicevo ad Enzo, adesso siamo aumentati in famiglia. Dai, salutiamo Vittoria. Vittoria. Ah, complimenti, non lo sapevo. Due mesi. Un nome non a caso. Come dicevi tu, lo stesso nome della figlia di Antonio Conte. E anche in onore allo stavo della Vittoria. Comunque, a parte gli scherzi, dai, auguri per la nascita della bambina. Non abbandoniamo mai il nostro grande Bari, seguiamolo anche in trasferta. Assolutamente no, assolutamente no. Lo sai che io sono sempre presente, in casa e cuore. Eh, lo so. Grazie. Ciao, grazie per il tuo intervento. Trasferte lunghe e nefaste. Parma Bari in auto. A Parma non si fa mai il risultato. A Parma non si fa mai il risultato. Allora, abbiamo chiesto, io e il collega che ha chiamato adesso, ci siamo fatti sostituire in Udi Enzo, per tre giorni conseguiti, perché siamo partiti la mattina, siamo andati allo stadio e siamo ritornati, perché era in settimana, era un infrasettimanale. Ecco, perché questo è il sacrificio, vabbè, di noi professionisti, ma sicuramente c'è il sacrificio del panettiere, il sacrificio del dipendente, il sacrificio del disoccupato, che va allo stadio, va allo stadio, spende i soldi del biglietto e poi deve vedere questo spettacolo proprio nefasto, questa società che ci sta veramente lasciando lo sbarato. Pubblicità tra poco.